Da tifoso dell'arsenale, da bandiera del club, lo ammetto con paura e timore. Il Tottenham sta diventando una grande squadra. A parlare, a BBC Radio, è Janvrig, simbolo dei Gunners. Il risultato contro il Real Madrid è il primo grande passo. Lo dico con profonda gelosia. Sta nascendo una grande squadra.